Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale per ASMR, grazie per aver scelto questo video rilassante. Oggi voglio fare un po' di chiacchiere con voi e lo farò utilizzando, come al solito, questo tono di voce sussurrata e un oggetto che vi è stato regalato da uno di voi, scelto direttamente dalla mia lista Amazon che trovate qui giù dell'info box, se volete dare un'occhiata potete farlo, lì ho messo tutti gli oggetti e l'attrezzatura che vi servono per migliorare il canale e per fare magari dei trigger interessanti. L'oggetto che utilizzerò oggi produce dei suoni molto rilassanti e spero possa accompagnare in maniera piacevole la mia voce per guidarvi verso il sonno o comunque il relax. Ve lo svelo tra poco, prima però vi chiedo come al solito di indossare le cuffie oppure gli auricolari per godere al meglio di questa esperienza ASMR e di lasciare un mi piace a questo video se volete supportarlo e ovviamente anche di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e volete vedere altri video rilassanti mi raccomando, non dimenticate di cliccare la campanile bene adesso iniziamo, ho un po' di cose da raccontarvi allora vi svelo subito l'oggetto in questione si tratta di questo giocattolo per il quale devo ringraziare Massimo Buccolieri grazie Massimo e a proposito di ringraziamenti voglio anche ringraziare tutti gli abbonati che sostengono questo canale e chiunque di voi lascia un commento per farmi capire che è passato di qua entro qualche giorno ho intenzione di fare delle modifiche anche per quanto riguarda la gestione dei saluti infatti ho notato che ci sono diversi creator tra cui Marco che saluto ciao Marco che salutano randomicamente alcune persone sotto ogni video giochiericcio e pensavo di fare una cosa del genere magari stabilendo un giorno al mese in cui salutare qualche persona che possa scegliere tra i commenti in maniera del tutto casuale perciò anche voi se volete essere salutati visto che ve lo chiedete in continuazione e non riesco purtroppo a farlo con tutti scrivete un commento qua sotto con il vostro nome e appunto chiedendogli di essere salutati nel video dedicato a questo comunque vi comunicherò altri cambiamenti nei prossimi giorni adesso voglio farvi ascoltare un po' di suoni appunto con questo giocattolo mentre vi parlo di altre novità queste sono tre rotelline qui c'è una specie di controller una leva comunque qui c'è un pulsante qui c'è un pulsante qui ci sono tre leve delle palline di gomma questa invece è una superficie di plastica o di gomma non lo so vedete fatta così questo è uno stimolo adattile più che altro poi abbiamo dei pulsantini una rotellina qui un'altra cosa di plastica non so definirla che cos'è secondo voi si può schiacciare ah si può schiacciare ah che bello vedete e sentite che altro forse anche questi ah si sono schiacciabili poi che altro ah si un altro pulsante questo è il mio preferito e qui vabbè ovviamente c'è il laccetto diciamo e adesso ci giocherò un po' mentre vi parlo di quello che sta succedendo negli ultimi giorni beh notate ancora un po' di trombusto nella programmazione dei video che è ancora ballerino proprio per questo vi consiglio di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video rilassanti ho appena visto una cosa bellissima non so se l'ho riuscita a notare ma questi pallini hanno delle facce sorridenti vedete gli occhietti e la bocca e niente sono ancora in una fase di cambiamento perchè come vi ho ormai detto tantissime volte devo traslocare devo cambiare appartamento e quindi faccio un po' avanti e dietro tra casa mia e casa dei miei genitori e ovviamente è un po' faticoso ma siccome andrò in una sistemazione che per me sarà molto migliore sono felice e quindi riesco diciamo a vivere questo tipo di passaggio in una maniera abbastanza serena serena ecco anche se sarebbe molto meglio essere un po' più stabile speriamo che questa tanto agognata stabilità prima o poi arrivi oggi ho ricevuto la versione beta delle agende smr e in questi giorni le vedrete in giro su alcuni canali perchè un sacco di creator hanno partecipato al progetto e penso non vedo ancora di raccontarvelo facendo un sacco di trigger con le agende e io penso che i preordini si chiuderanno davvero tra poco quindi mi raccomando affrettatevi se avete intenzione di scegliere la copertina che preferite tra le due proposte adesso ve le faccio anche vedere un attimo perchè so che qualcuno magari il video di presentazione che avevo fatto non l'ha visto quindi se per caso l'avete perso a parte che ve lo lascio qui nelle schede per recuperarlo ma poi adesso vi mostro come sono fatte queste agende poi ci sarà un video dedicato alla decorazione allora la prima è questa quella che stai sbagliando è la prima e unica agente del SNR al mondo e si quindi una e la seconda che è ancora palettata è quella azzurra se avete una preferenza specifica tra queste due copertine fate il preordine perchè dopo la fase dei preordini non ci sarà la possibilità di sceglierla ma solo una delle due andrà in commercio nelle librerie fisiche mi hanno chiesto alcuni di voi se fosse poi a un certo punto disponibile anche su Amazon questa agenda e la risposta è sì ma dopo il preordine con il preordine vi ricordo che avrete anche una tetica e una traccia audio ASMR poi sto ancora decidendo ed è veramente tanto che sto cercando di decidere quale telefono acquistare perchè il mio ha iniziato già da tempo a non essere più molto prestante e quindi vorrei acquistare questa volta un top di gamma avevo pensato appunto a un iPhone oppure un Samsung io non ho particolari preferenze tra l'uno e l'altro sistema operativo quindi iOS oppure Android e possiedo sia un dispositivo Apple cioè un iPod Touch sia ovviamente uno smartphone Android e quello che mi interessa di più in realtà è la resa della fotocamera perchè ho necessità di velocizzare un po' il processo di esportazione e di importazione di registrazione dei video e quindi qualche volta vorrei poter registrare anche con il telefono ma dovrà essere un telefono davvero ottimo non so se avete qualche consiglio già un po' di tempo fa ve lo chiesi che però ecco per gli smartphone top di gamma bisogna davvero mettere da parte un sacco di soldini allora in questi giorni chi mi ha seguito su Instagram lo sa ho avuto modo di tenere una gattina bellissima che ho in pratica salvato diciamo così da un posto nel quale veniva solo nutrita ma non veniva curata questa gattina aveva dei cuccioli aveva partorito dei cuccioli da alcuni giorni e questi cuccioli però non li allattava e quindi c'era qualcosa che non andava e infatti loro venivano allattati da un'altra gatta e che in pratica ero da nonno comunque e avevo mi sono resa conto appunto che qualcosa non andava e ho portato questa gattina in visita dal veterinario in realtà da diversi veterinari e ho scoperto che aveva una leggera mastite e anche un pochino di febbre dovuta all'infezione e poi era piena di parassiti quindi l'ho fatta curare e le ho somministrato le prime medicine l'ho tenuta per alcuni giorni e poi l'ho data a Talia che si occuperà dello stallo quindi se voi per caso siete interessati ad adattare una gattina io non posso perché ho già già mettetevi in contatto con me perché posso fornirvi ovviamente maggiori dettagli è una gattina davvero dolce dolce e su instagram ci sono sia c'è una foto che delle storie quindi se volete andate a seguirmi anche lì su instagram per avere qualche dettaglio in più questo quindi per quanto riguarda me è quello che ho fatto ultimamente adesso sono in progetto di organizzare le vacanze estive quest'anno farò una vacanza ma sarà probabilmente la prima dopo tanto tempo e vediamo un po' che cosa ne esce se se sarà il caso di accettare una proposta oppure di fare qualcos'altro è ancora tutto in forze perché questa storia del traslogo ovviamente mi sta occupando la maggior parte del tempo e dei pensieri ecco comunque che bello questo oggetto vi lascio nell'info box il link per acquistarlo se ne volete uno simile dà più soddisfazione al tatto che come sonorità però mi piace tanto anche il suono per la fine per la fine di questo video e spero vi abbia un po' rilassati e fatto un po' di compagnia vi faccio ascoltare solo i suoni quindi smento di parlare e maneggio un po' questo fidget cube ma non è un cube in realtà so che alcuni suoni sono davvero delicati tipo questo mentre altri sono più incisivi tipo questo qui non è un po' di 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 mi piace l'idea di poter sviluppare più trigger contemporaneamente toccandolo bene fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e noi come al solito ci vediamo se vi va nel prossimo video bacini fatosi mi raccomando guardate in descrizione e non è un po' di 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 non è un po' di